Ciao a tutti voi da Rosi, l'appuntamento della nostra vetrina oggi è con Pechini, concessionaria Renault, abbiamo delle novità, abbiamo delle proposte interessantissime a chilometri zero aziendali, naturalmente tutto questo lo vedremo insieme a Luca Iemmallo e noi siamo nella sede di Buccinasco. A te Luca. Ciao Rosi, grazie mille e benvenuti qua da noi a Buccinasco e nella sede di Via Nino Bixio 1 di Renault e Dacia. Allora vi presento, partiamo subito con la presentazione di questa nuova stupenda bellissima macchina di Renault, la nuova Captur con la nuova colorazione Tokyo Edition. Ecco a voi. Eccoci, allora viene divisa da una cosa molto particolare che è il tetto con questa finitura particolare e gli interni sempre con sellerie zip con la colorazione speciale Tokyo Edition. Venitela a vedere perché è qualcosa di veramente spettacolare. Ma adesso passiamo a parlare di un altro veicolo, un veicolo aziendale che abbiamo in casa, stupendo, eccolo qua ed è proprio di Espace che volevo parlarvi, Espace Intense, aziendale, un veicolo che come potete vedere costava 44.215,23 euro al listino. Questo veicolo nostro aziendale di un anno di vita con soli 8.000 chilometri. Signora, sentitevi bene. La usavo il mio titolare, per voi, con quattro gomme già nuove, già con il treno invernale, sette posti, allo spettacolare prezzo di 28.900 euro. E se venite in questa settimana vi regalo il passaggio, promesso. Prezzo naturalmente è legato anche, se venite anche a trovarci sempre in questa settimana, vi faccio poi un altro piccolo sconto sempre legato però al finanziamento. Espace Intense con delle caratteristiche molto particolari. Fari full LED, vi ho già detto della versione sette posti, clima automatico, tasto multisense e quattro ruote sterzanti. Vuol dire che è un veicolo con i cerchi da 19 e che ha la possibilità, grazie a queste quattro ruote sterzanti, grazie alla sua lunghezza di 4,86 metri, di fare inversioni in piccoli spazi. Venitelo a scoprire, per le famiglie è un veicolo spettacolare. Ed ora passiamo a parlare di Cajar. Cajar nella versione Hypnotic Energy DCI, diesel, 110 cavalli, automatico, cambio EDC, una gran comodità. Molti che usano il cambio automatico poi non tornano più indietro. Guardate che prezzo, da 28.500 euro a 20.750. Parliamo di un veicolo aziendale usato da un mio collega, di un anno di vita e pochissimi chilometri. Venite a vedere, ce l'abbiamo qua in salone, è veramente un mezzo stupendo. A questo prezzo vi dico che anche qua vi regalo il passaggio di proprietà e non solo. Venitemi a trovare perché grazie al finanziamento RCI Bank c'è un ulteriore sconto che vi invito a scoprirlo qua da noi quando venite a trovarmi. Ed ora passiamo in casa Dacia. A Dacia abbiamo questo Duster aziendale, appena immatricolato, con soli 20 chilometri. Il primo che arriva di voi se lo aggiudicherà. Parliamo di un Duster Comfort 1.5 diesel, 110 cavalli. Bene allestito perché come vedo qua con climatizzatore, navigatore, cruise control, cerchi in lega da 16, gomme 4 stagioni. Un veicolo che viene a un prezzo che, guardate, parliamo di 16.500 euro. E addirittura grazie a un finanziamento RCI Bank arriviamo a 15.950, passaggio di proprietà compreso. Venite a trovarmi, venite a trovarmi perché questo Duster grigio comete è proprio bello. Ed ora passiamo a descrivervi le nostre stupende chilometri zero. Partiamo da Renault Captur. Intense, nell'allestimento più completo, più bello, con le selerie zip sfoderabili. Nella versione col cambio automatico diesel 90 cavalli e DC, il nostro cambio a doppia frizione, dove non hai neanche la percezione delle cambiate da una marcia all'altra. Nella colorazione Milano abbiamo solo tre esemplari in casa. In matricolazione luglio 2018, vi ricordo che abbiamo, grazie al fatto di averli matricolati a chilometri zero, il bollo pagato fino all'anno compiuto, quindi fino a luglio 2019. È un bel vantaggio, signori, qui parliamo di quasi 250 euro di bollo risparmiate. E adesso, udite, udite, il prezzo è 19.900 euro più il passaggio. Ma, c'è un ma, grazie al finanziamento della piattaforma Firano, arriviamo allo strepitoso prezzo di 17.700 euro. E vi ricordo che entro questa settimana vi regalo anche il passaggio di proprietà. Parliamo di ulteriore 600 euro di sconto, quindi ve lo ricordo, 17.700 euro prezzo finito. Per un veicolo che costerebbe nuovo oltre i 22.200 euro scontato. Quindi, venite, venitelo a visionare. L'abbiamo qua in via, in Pechini, in via Ninobixio 1. Passiamo a parlare di casa Dacia. In Dacia abbiamo un docker pick-up, un mezzo da lavoro. I pick-up, sappiamo tutti che sono mezzi da lavoro, molto costosi, quattro ruote motrici, ma qua abbiamo, possiamo offrirvelo, grazie a Dacia. Nella motorizzazione 1.500 diesel, 90 cavalli, colore bianco, con la radio e il climatizzatore, a 15.900 euro. 15.900 euro, signori, non comprendete niente di pick-up. Potete lavorare con un prezzo bassissimo. Abbiamo, visto che siamo in ambito di veicoli commerciali, vi voglio parlare di due spettacolari veicoli commerciali molto venduti, sempre a chilometri zero, di casa Renault. Kangoo Express, Kangoo Express diesel, 75 cavalli, con pack space, ice e tecno, quindi comunque traducendo, climatizzatore, la possibilità di avere la griglia del passeggero girevole, quindi possiamo caricare in lunghezza fino a sfruttare tutto il vano di carico. Immatricolate da pochissimo. Parliamo di ottobre 2018, qua il nostro prezzo è 14.500 euro, IVA compresa, al quale, grazie al finanziamento della piattaforma Renault, arriviamo allo strepitoso prezzo di 12.200 euro per un veicolo commerciale di marca Renault, di casa Renault, quindi è un prezzo molto, molto basso. Ricordo che anche col finanziamento sono compresi dei servizi come l'assicurazione furto incendio e la garanzia estesa. Veniteci a trovare che poi vi spiegherò meglio nel dettaglio. Oltre a questo abbiamo un Master L2H2, 35 quintali, 130 cavalli, con pack tecno, media nave e ruota di scorta, quindi sempre traducendo, sensore di parcheggio, navigatore satellitare e ruota di scorta. Veramente un mezzo da lavoro completo, allo strepitoso prezzo di 24.900 euro. E sempre grazie al finanziamento arriviamo addirittura a 22.900 euro. Veniteci a scoprire perché qui abbiamo anche dei leasing, dei leasing a dei tassi bassissimi, veniteci a trovare. E poi la nostra chicca, una macchina presidenziale oserei dire, passatemi il termine, Talisman, Talisman Station Vagon, è l'allestimento Executive, che è l'allestimento uno dei più belli con gli interni in pelle, diesel, 130 cavalli, EDC, cambio automatico, nella colorazione di rappresentanza Blue Cosmo, con l'Easy Park Assist e con parking camera. Immatricolato in aprile 2018 al prezzo strepitoso di 30.900 euro. 30.900 euro più il passaggio, ma grazie allo sconto legato al finanziamento e al fatto che voi verrete a trovarmi questa settimana, sono sicuro, arriviamo a 28.700 euro. 28.700 euro per un macchinone da listino che supera i 39.000. E ora passiamo a parlare di una macchina bellissima, a me personalmente piace molto, la Megane Grand Coupé, nell'allestimento Intense, il più bello, col pacchetto Multisense, con la motorizzazione diesel, 110 cavalli nella colorazione grigio a titanio, pack Easy Life e ruota di scorta, immatricolata luglio 2018, al prezzo di 20.900 euro e non ci posso credere ancora con lo sconto legato al finanziamento di 1.700 euro, 19.200 euro, bollo pagato per un anno. Megane, ora passiamo a parlare della Megane Berlin, abbiamo due esemplari, l'allestimento più bello, Intense, motorizzazione diesel, 110 cavalli, colorazioni rosso Passion e beige Duna. Beige Duna, entrambe con assistenza al parcheggio, sensori anteriori e posteriori, ruota di scorta. La versione rosso Passion, che è quella un po' più bellina, un po' più cara perché è un triplo strato, viene 20.900 euro, grazie allo sconto legato al finanziamento 19.200, mentre per l'altra versione beige Duna un po' meno, ancora più conveniente, 18.200 euro. Qua veramente raggiungiamo dei prezzi da utilitaria, veniteci a trovare. Scenic, ora passiamo alla macchina per la famiglia per eccellenza. Scenic, nell'allestimento Zen Sport Edition 2, quindi l'allestimento più bello attualmente in commercio con cerchi in lega da 20, quindi grossi, gerchi, grande impatto, molto bella, ce l'abbiamo disponibile con varie colorazioni. Nel colore Milano, che è grigio scuro col tetto nero, nel colore Havana, che è un colore beige col tetto nero. Questi veicoli noi li offriamo al prezzo, sono immatricolati tra luglio e agosto 2018, al prezzo unico di 21.700 euro. Grazie allo sconto legato al finanziamento arriviamo a 19.900. Ed ora abbiamo le Clio, due Clio 1.500 diesel, 75 cavalli a 15.900 euro, e grazie allo sconto legato fortissimo al finanziamento arriviamo a 13.500. Passiamo a parlare di Mitsubishi, abbiamo delle Mitsubishi a chilometri zero, una bella 4x4, adesso che arriva l'inverno con la neve può andare dappertutto. Luglio 2018 a 23.500 euro, una macchina da oltre 30.000 euro, venitela a scoprire. È il nostro salone qui a Bucinasco. Due Eclipse Cross 1.500 benzina nell'allestimento intensa in style a 22.900 e 27.900 e per finire due regine della classe Outlander in style plus, allestimento più bello automatico, sette posti a 27.900 euro. Non mi resta che aspettarvi. Ed eccoci qua alla fine di questa carrellata fantastica di chilometri zero, non mi resta altro che salutarvi e invitarvi a presso la nostra sede di Bucinasco in via Ninobixio 1. Io vi aspetto, numerosi mi raccomando e appena venite chiedete di un caffè e sarà sempre offerto. Grazie, ciao. Un veicolo aziendale appena immatricolato, pensate a solo 20 km, il primo che arriva non se lo aggiudica, ha un prezzo unico nel suo genere, 16.000. Grazie. 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 Grazie.